salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video oggi vi mostrerò tutti gli accessori che inseriranno nella patch 1.3 di terraria allora premetto che la maggior parte anzi quasi tutti non ne potrete vedere le immagini perché non sono riuscito a trovarle però come ho già detto ve li voglio far sapere tutti quindi tutti quelli che non si potranno vedere ve li metterò per iscritto allora farò una cosa che solitamente non faccio ovvero vi metterò nella descrizione un file da scaricare che contiene tutte le immagini che vi mostrerò adesso e tutti gli altri accessori di cui non ho trovato le immagini scritte su un blocco note così voi potrete capire meglio forse grazie a tutti 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 grazie a tutti